Nuova gaffe per Hilary Blasi a Battiti Live, lo show condotto su Canale 5 insieme ad Alvin lunedì 5 agosto 2024. Ma questa volta ha più l'aria di essere un siparietto costruito ad hoc e lo si percepisce dalle parole, l'atteggiamento e il tono di voce, un po' falso, usati dalla diretta interessata. Scopriamo insieme cosa è accaduto per poi soffermarci sui ringraziamenti finali, ovviamente non è mancato un grazie particolarmente sentito al pubblico. Il siparietto tra Hilary Blasi e Alvin. Durante la prima puntata di Battiti Live, Hilary Blasi è finita nel mirino dei social e dei giornali a causa delle numerose gaffe in diretta, ma ora la conduttrice, forse puntando proprio sul clamore derivato dagli scivoloni precedenti, sembra aver proprio preparato con Alvin una scenetta che sa tanto di presa in giro. Ma magari ci sbagliamo. Quando è arrivato il momento di presentare un artista sul palco, infatti, la Blasi, rivolgendosi al co-conduttore del programma, ha detto, Alvin, dobbiamo andare avanti, io non so niente. Non sai nulla, neanche io, ha risposto il collega prima di sentire la showgirl dire, che abbiamo da fare. Alvin ha continuato a insistere sul fatto di non averne idea fino a quando la Blasi non ha commentato, no, dai, non lo sai chi c'è adesso, sono nelle tue mani. A quel punto il co-conduttore ha dichiarato, è una cosa incredibile. Poi la showgirl ha ironizzato, sono nelle tue mani e questo è un problema. Tra l'altro, durante la puntata, quando sul palco dell'evento è salito Mida, Hilary Blasi ha citato il bacio di Giuda, portando i fan dell'isola dei famosi indietro nel tempo, a quando proprio quest'ultima guidava il reality show di Mediaset. Sui social media, infatti, gli utenti hanno chiesto il suo ritorno nel ruolo di conduttrice. Ha detto, è un bacio di Giuda. Ah, ah, Hilary torna all'isola. Infine, ricordiamo un altro grande momento della showgirl. Alla console, al fianco del disc giochi, Gabri Ponte, intenta a intrattenere il pubblico ballando e toccando i tasti del dispositivo. A fine puntata, l'ultima di questa edizione è stato lasciato largo spazio per i ringraziamenti. La prima a parlare è stata proprio Hilary Blasi. Siamo arrivati alla fine di questa serata e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo programma, Battiti Live 2024, ma soprattutto un grazie speciale a questa meravigliosa terra, la Puglia, che ci ha abbracciato, coccolato, accolto in queste serate. E poi, chiaramente, ad Alvin e Rebecca. Grazie, ragazzi. Poi Alvin ha aggiunto, grazie a Hilary, grazie a Rebecca, ma soprattutto grazie alla famiglia calorosissima di Battiti che include, ovviamente, il meraviglioso pubblico. Rebecca ha chiuso l'appuntamento dicendo che è stata un'esperienza meravigliosa e ringraziando di vero cuore il pubblico pugliese.